Ciao a tutti ragazzi qui è Bluelight e benvenuti oggi in questo nuovo video Oggi come vedete sono sempre sul server Miniplex E quest'oggi come vedete davanti a me Volevo provare la modalità Super Paintball Allora non ci ho mai giocato però Paintball quindi si parlerà appunto di colore eccetera eccetera Quindi entriamo subito qua dentro Ok mi fa entrare subito per fortuna C'è subito una partita Comunque ieri almeno per me è finita scuola O ieri tra ieri e oggi è finita scuola in generale Finisce scuola in generale appunto per le vacanze di Natale Dico ecco allora Io sono rossi Devo tirare la cosa blu Ok Questo che fa? Porca miseria Allora Paintball Ah ok questo lancia il colore E questo invece Questo ha delle bombe Water bomb Ok Nether won the game Abbiamo vinto Siamo dei campioni Io non so 8 a 0 così E io non so nemmeno se ho fatto qualche uccisione Perché non ho letto niente Allora vediamo qua come è il volume Sì è 2 Perfetto Perché se no poi si sente troppo nel gioco Cioè nel gioco nel video E Quindi facciamo un'altra partita La prima già l'abbiamo vinta Stato di nuovo il team Nether Mancavo 56 secondi Ok Oltre a Paintball Vorrei fare pure un'altra modalità Che poi andremo a vedere Andremo a scegliere Ancora Non lo so Questo che è Machine gun Shotgun 2000 gemmi No Sì 264 Invece questo Rifle kit Ok Speed permanent Right clear Ok Quanto mag 28 secondi Ok perfetto Facciamo anche questa seconda partita Perché La prima è durata pochissimo Perché ho vinto subito Cioè sono un campione La mia squadra era una campione Una campiona Una campiona E C'erano giocatori forti Oltre a me Ah Vediamo un paio di skin Perché qua Se si serve Le skin sono epiche Sono tutti questi Ho visto qualcuno Ecco Lol Qua Non c'è nessuno Ok Paintball riff Shot enemies to paint them Revive heal with Ah ok Mi ridò la vita Con le bottigliette d'acqua Quindi prima lo usate così run Oh Oh fuck Allora Con questi ti rilander perle Che so appunto Colore Colore Ma quello è già morto Quello che fa Vola Lui vola Pallonetto Come si fa più a quello No quello è già morto Ecco quello Porco Eh si vabbè Che kit c'hai Guardatelo Ma che cacchio c'ha Oh Guardate se devi più a me Intanto vediamo se ci sta qualcun altro Della squadra blu No c'è solo quello What the fuck Si c'è solo quello Dov'è Siamo tutti Ah no Sono in due Ma dove cacchio sono Si mi sa che sono in due Ho visto Mamma mia Blue light Un campione Un campione Si abbiamo vinto di nuovo Mamma mia Che bombe C'è proprio Mamma mia Terza partita Ma si ma facciamoci una terza partita Da paintball Intanto ci danno le super mega gemme Quanto ne ho preso 14 20 Quanto ne ho preso Non mi ricordo il numero L'ho detto prima 264 ce ne avevo Quindi ho preso 24 In teoria Nice Allora No wait Waiting for player Vabbè aspettiamo Tanto questo è il kit standard Cioè O almeno che non spendo 2000 gemme O che prendo questo Ah no è vero Ultra Vuol dire come i premium Negli SPHX Diciamo Tra virgolette Quindi 40 secondi Terza L'ultima partita Super paintball E poi vediamo un'altra Modalità epica Su questo server epico Naturalmente vi lascio il link In descrizione Come gli altri video Tenderò a fare Quasi tutte Le modalità Di questo server Ogni sabato Delle modalità diverse Come avete già visto Lo scorso sabato L'abbiamo fatte due Insieme a Ian E quello ancora prima L'avevo fatte Altri due E quindi Questo server Sì Mi piace davvero molto Perché È ricco Di Modalità nuove Che non avevo mai visto Sinceramente E che non avevo Nemmeno mai giocato Quindi Pure Una sorta D'esperienza Personale Ok Facciamo quest'altra partita Sempre Questi rossi Andiamo dai Vai 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 Allora Vediamo dove sono Sono laggiù No però che bello Loro c'hanno i palle di neve L'ho preso Oh Regà 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 Loro c'è sciotta Mamma mia Blue light No No Ma ho ucciso Chris E Non ho fatto Ah no Aspetta Posso tornare in vita Con questo No Col caso Col quarzo No Tiragliela Fuck No Perché non gliela posso dare A blue light Allora vediamo Chi manca Questo Stanno a vincere i blue E che c'ha questo Ho sparato Più palle insieme L'ho visto Ma what the fuck L'acqua Chi manca Dove sono i rossi Questo è morto Manca uno Due Ne mancheranno No Sono tutti qua dietro Morto pure lui Eh c'è solo lui Vabbè dov'è dov'è Eccolo Che scappa Eh vabbè Tre contro uno Quattro contro uno Qua quanto eravate Vabbè La seconda Sì la seconda La terza partita Quindi l'abbiamo persa Ora ne abbiamo vinte e due Ho trecento gemme Quindi Andiamo Al lube Cerchiamo una nuova modalità Allora Vediamo prima Quelle tra i server Allora Super smash mobs Black Minecart Intanto questa È una nuova hub Come vedete L'altra volta era diverso Quindi Poi Qui Dominate Poi Snake One in the quiver No voglio fare Dragons Facciamo dragons Reserve il full No Che culo Mi ha fatto entrare Ok Dragons Credo Bisogna A che fare Con i draghi Naturalmente Cioè Con gli under dragon Adesso vediamo pure In che modo Tu sei un creeper Con Il mantello No non era un mantello Una tartaruga ninja Quello rosso Chi era? Quello rosso È Raffaello Raffaello Se non ricordo male Ma qua che è Questo Questo c'è il cappello Di Natale Questo è Babbo Natale Questo È il che ho aperto prima E vabbè E Pidiamo forward Tanto è quello standard Ce lo dava Lo stesso Iniziamo La Nuova Modalità Allora Ah Sì Bisogna Shottare I draghi Uno più draghi Che distruggerà La mappa Dov'è questo drago? Eccolo Bello lui Eccolo in altro Quanti sono? No dimmi Dimmi che è sempre stato Lo stesso No non è lo stesso Porta miseria Sai le pizze che c'è Pio Guardate Quello Modacce È passato Da qua Mesa Distrutto tutto Dove siete? Dove siete? Ah è vero C'è Porca miseria C'è una cosa Che si chiama Appunto Lippo Adesso Ecco Mi sono chiuso qua dentro Dimmi se fossero rompi i blocchi Porca miseria Mi sono chiuso qua dentro E mo come cacchio Esco Col salto Si può fare il salto No? Fuck Usiamo Lipp Lippo Che non so nemmeno che cos'era Chius Lippo Però Sono rimasto fregato Eh Mi ha peso il drago Eh Bravo Sette gemme Sono resistito Un minuto e tre No però questa modalità È Troppo Laggosa Perché appunto Ci sono tre Quattro Cinque draghi E poi io sono morto In maniera molto brusca Molto Cioè Ero Incastrato Cioè Non potevo fare nient'altro Quindi Aspettiamo Che Finiscano gli altri Come ha fatto Quella a vedere l'arco Non lo so Lui c'ha l'arco Però guardate Cioè Quanti cacchio di draghi so Se riusciamo a Piare pure uno screenshot Ma si Dico così Cattro bei dragoni Ma ecco Quanti ne mancano Dead 12 Live set Vabbè ci sono ancora sette persone Ma che stanno a fare Oh Stanno a preparare un'altra Ti è Ciao Vieni qua Ehi Vieni qua Ehi Vieni tu Ehi tu Sì sì Proprio tu Vieni qua No 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 Sì però Piatti una cifra Oh Dov'è Ecco Ecco Guardate È tepio È tepio Sa Sì però Vabbè Guardate Cioè Hanno distrutto tutto Cinque Sono rimasti vivi Ecco Tre Uno Due Laggiù E il terzo Che è appena cascato Ecco È finito Ha vinto Mark Konick 2001 E poi Charlie 9 4 2 7 È arrivato secondo E poi Ciccio è arrivato terzo Va bene Quindi no Quindi sì Facciamo L'ultima partita Appunto Questa qua Dei draghi Lo so che È una cosa difficile È complicata Che Soprattutto io Ripeto Sono modalità In cui non ho mai giocato Quindi E Ancora ci devo prendere l'abitudine Certo Non è che Vado là T'ammazzo il drago Cioè T'ammazzo il drago Riesco 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 a resistere Fino alla fine Anche se Quello I draghi Distruggono tutto Allora Aspettiamo questi 38 secondi Tu che cosa sei Guardate Guardate Spiega Guardate Ti sto aspettando Spiega Così Shiftiamo la gente Questo chi è Barcellona 10 Ronaldinho I tempi d'oro Così Perché quella è una vecchia Cioè Nettamente è la vecchia Maietta Basta E 16 16 secondi Select hit Questo Cioè Devo ancora capire Che cos'è Lippo Oh Questo è ultra Bu Bu Sei ultra Bu Spendi i soldoni Bu Basta Ok Una nave Siamo in Circo Beh ma qua moriamo come Cacche Allora vediamo Lippo che fa E' uno scattino in avanti Il Sì Uno C'è Vediamo Io adesso salto E lo rifaccio Sì E' uno scattino in avanti No Uno sprint Diciamo Questo comincia Che già distrugge Porca miseria Il lag è più lagoso Boh 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 Ok Sono qua sopra Ho usato Lippo Questo è cascato Lo sempre vedete Stanno Sti draghi De merda Ok Siamo Siamo in 14 Via 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 Non posso Soppi lì Ok Quella Parte Più o meno L'hanno distrutta Adesso qua Non è meglio Spostarci Questi Debbiamo Da dietro Mica Sono così Stupidi Dove stanno Dobbiamo distruggire La nostra parte Come è fatto Come è fatto Quella riva là sopra Con questa Porca miseria Vai 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 Con la scala Con la scala Con la scala Sali 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 No Fuck Era una scaletta Stupida Questa invece No non si può Questa No Via da qua Via da qua Porca miseria Mamma mia Con l'uso di leap Luletta riesce a scappare Eh dove vado Devo fare Parkour Mamma mia Blue light parkour Si blocca il gioco Lui usa leap No Sono caduto Stesso Fanculo Mi ha dato una crocca Eh Return to playable Area Come faccio Sono caduto Di sotto Mi ha dato una crocca Ero quasi riuscito A risalire Mannaggia Lui Lui c'ha l'arco Va bene Ah questo che era Quello ultra Quindi c'hanno Gli euro kit Però Ti rifreggio Siete rimasti In quattro Quello è caduto Questa ha preso La crocca Tre Rimasti in tre Cadono blocchi Don't quit Yeah Quinto subito Proprio Prima a quitare Boh 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 Tutto distrutto Se lo sanno Ecco è finito Ha vinto Shadow Questo È arrivato prima Ah Complimenti Prendiamo gg E usciamo Perché tanto Ormai il video È finito Andiamo nella hub Giusto per Ok Andiamo In una parte Guardate qui Ma che cacchio è Ha fatto La torretta Con i cosi Con i pazzi di neve Vai prendi pure quello No io lo devo fare Lo screenshot Io l'ho fatto Ok Bene ragazzi Per questo video Degli Angry Games È tutto Spero vi sia piaciuto Abbiamo fatto altre due Diverse modalità E quindi Bene Se il video vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare un mi piace Di commentare Se non l'avete ancora fatto Di iscrivervi al canale La pagina Facebook È in descrizione E anche il sito web Quindi Ciao a tutti da Blue Light Ciao